Come si tratta di idrobiologia e etiologia? Un breve sommario rispetto agli argomenti che tratteremo oggi. Innanzitutto, quando si parla di laghi, si parla di ambienti complessi che vanno studiati e la scienza che si occupa di studiare i laghi è la limnologia. Tratteremo poi brevemente l'importanza della conoscenza di un lago, perché è importante conoscere un lago. Quali sono e quanti sono i laghi e i bacini artificiali italiani? Alcuni cenni di classificazione legati alla morfologia dei laghi, quindi a come sono strutturati, alla loro forma, alla loro origine. L'importanza del regime termico, quindi l'importanza della temperatura delle acque e di tutti i meccanismi che sono in qualche modo regolati dalla temperatura delle acque. Anche in base alla temperatura delle acque è possibile classificare i laghi e vedremo i diversi tipi di laghi classificati a seconda del regime termico. Andiamo poi un pochino più nel dettaglio rispetto alla vita nei laghi, perché i laghi non sono solo acqua, non sono solo elementi abiotici, ma sono anche elementi biologici. E quindi andremo a vedere quali sono le componenti più importanti della vita nei laghi. Il lago quindi ha un ecosistema complesso, un ecosistema complesso con delle forti interazioni tra le matrici biologiche e le matrici abiotiche. Infine tratteremo brevemente il tema dell'inquinamento, l'inquinamento dei laghi, con un focus specifico rispetto all'argomento eutrofizzazione e rispetto all'inquinamento industriale. Parliamo quindi della limnologia. Quando si studiano i laghi e si cerca di capire come funzionano, non si può prescindere da una visione direi articolata, una visione multisettoriale. E la scienza che si occupa di studiare un lago è la limnologia. La limnologia in qualche modo ha radici abbastanza antiche, nel senso che i primi studi sul funzionamento dei laghi e sulle componenti biologiche e anche abiotiche presenti nei laghi sono quelli attribuibili a Varegno, intorno alla seconda metà del 1600, fino ad arrivare ad Alessandro Volta, intorno alla seconda metà del 1700. La limnologia però, in senso più completo e più strutturato, di fatto prende forma, prende corpo con gli studi di Forel. Forel che struttura un'opera completa, chiamata Lelemans Bibliographie Limnologiques, che attraverso un periodo di dieci anni e tre grandi tomi, in qualche modo prende in considerazione tutti gli elementi che caratterizzano la vita e il funzionamento di un grande lago, in questo caso il lago Le Mano, in Svizzera. Direi che è tra la fine del 1850 e la seconda metà del 1900 che in Italia, soprattutto, si sviluppa la limnologia vera e propria, con alcuni personaggi molto, molto importanti, generalmente professori universitari o studenti di professori universitari dell'epoca, che portano avanti tutta una serie di studi che hanno permesso, nei due secoli passati, di chiarire il funzionamento e i meccanismi di funzionamento di molti degli ambienti acquatici italiani. Tra questi personaggi, senz'altro, vanno ricordati, ad esempio, il Pavesi, professore di zoologia a Pavia, e la sua studentessa Rina Monti, che per prima ha compiuto tutta una serie di studi sui laghi alpini, quindi della catena alpina italiana, sia dell'area nord-occidentale che nord-orientale, e dopo la Monti, Vittorio Tonolli e la moglie Livia Pirocchi Tonolli, che, diciamo, a partire dalla seconda metà del Novecento, hanno portato poi alla costituzione di quello che fu, e esiste ancora oggi, l'Istituto Italiano di Idrobiologia, il primo e unico istituto di ricerca in Italia, e tra i pochi nel mondo, che aveva come specifica mission quella di studiare i laghi in tutta la loro complessità, complessità che interessa diversi aspetti, biologici, idrologici, fisici, chimici e termici. Da questo istituto provengo anch'io, attualmente mantiene il nome di Istituto Italiano di Idrobiologia, un nome storico, ma di fatto è stato inserito nel Consiglio Nazionale di Ricerca alla fine degli anni 70, e oggi prende il nome di Istituto per lo studio degli ecosistemi. Quando parliamo di laghi, parliamo di una risorsa molto importante. Una risorsa perché, di fatto, i laghi sono una riserva di acqua dolce nel nostro pianeta, la più facilmente accessibile. Tenete conto però che fiumi e laghi sono solo lo 0,2% di tutta la riserva d'acqua sulla Terra, quindi in proporzione rispetto agli oceani o rispetto alle calotte polari e ai ghiacciai sono una piccolissima frazione, eppure sono fondamentali per la vita sulla nostra Terra. E quindi è molto importante capirne il funzionamento proprio perché sono una risorsa. Quando andiamo a guardare il panorama italiano, vediamo che il numero di laghi è molto elevato. Quando si parla di laghi, spesso si intende anche parlare dei bacini artificiali, quindi dighe o bacini comunque di sbarramento, con uno sbarramento artificiale, e vedete che ci sono circa 315 laghi e bacini artificiali con superficie superiore a 0,2 chilometri quadrati. Generalmente sono distribuiti nelle aree montane o pedemontane sia delle Alpi che dell'Appennino in tutta la sua lunghezza. Nelle isole prevalgono soprattutto i bacini artificiali. Se noi consideriamo il volume d'acqua presente nei laghi italiani, vediamo che c'è una forte disomogeneità, nel senso che i grandi laghi sudalpini, quindi il Lago Maggiore, l'Orta, l'Iseo, il Lugano, il Como e il Garda, contengono circa l'85% di tutta la quantità d'acqua dolce, superficiale, presente nella penisola italiana. Tenete conto che il volume totale d'acqua dei laghi italiani è di circa 151 chilometri cubi. Un altro 11% è costituito dai laghi vulcanici dell'Italia centrale, Bolsena, Bracciano, Albano, Vico e il Grande Lago Trasimeno e solo il 4% è distribuito nell'Italia meridionale e sulle isole, prevalentemente, come dicevo prima, in bacini artificiali, utilizzati o per fornire acqua potabile o anche per l'irrigazione. A livello generale, quando parliamo di laghi, intendiamo una serie di bacini che si sono formati e si sono originati attraverso meccanismi diversi e quindi è proprio il meccanismo di formazione del lago e la sua morfologia che in qualche modo ci può essere utile per classificarli. Qui di seguito vi cito una serie di termini riferiti alla classificazione classica, diciamo, che si utilizza in ambito limnologico. Tra i grandi laghi presenti sulla Terra, senz'altro quelli più interessanti sono i laghi di origine tettonica, derivati dalla, diciamo, formati in seguito ai movimenti della crosta terrestre. Fanno capo a questa tipologia di laghi, ad esempio, la maggior parte di quelli presenti nell'Africa centrale, come il lago Vittoria, il lago Tanganyika, il lago Malawi, eccetera. Sono laghi spesso molto, molto profondi, proprio perché derivano dalle spaccature e dalle fratture della crosta terrestre. Ci sono poi i laghi vulcanici. I laghi vulcanici sono generalmente ospitati nei crateri di vulcani spenti. Pensiamo ai laghi presenti nell'Italia centrale, il lago di Albano, Nemi, Vico, Vracciano, oppure nelle depressioni che si sono formate per lo sprofondamento delle parti centrali dei vulcani, ad esempio il lago di Bolsena. Ci sono poi tutta una serie di laghi che si sono formati a causa di frane, a causa di sbarramenti, quindi deposizione sul fondo, ad esempio, di una vallata, dei detriti franati da una parete della valle stessa. Per citarne uno tra tutti, il lago di Scanno, in centro Italia, è uno di questi. Ci sono poi i laghi glaciali. I laghi glaciali sono quelli che si sono formati in seguito all'azione dei ghiacciai nelle ultime glaciazioni. I ghiacciai, in qualche modo, possono originare conche lacustri in differenti modi, prevalentemente due, scavando le conche direttamente nella roccia, oppure sbarrando le valli con materiale morenico, e quindi formano i laghi morenici. Molto spesso si sente parlare di laghi glaciali anche per i laghi subalpini. Laghi subalpini come il lago Maggiore, il lago d'Orta, il lago di Como, eccetera. La maggior parte di questi laghi subalpini sono sì laghi che hanno un'origine glaciale, ma il ghiacciaio, in qualche modo, ha esercitato la sua azione su valli preesistenti. Quindi, più correttamente, i grandi laghi sudalpini andrebbero chiamati laghi con un'origine fluvio glaciale. Di fatti, ad esempio, per il lago Maggiore, che è uno e probabilmente il lago più studiato in tutta Italia, a seguito di indagini con sonar particolari, si è visto che sotto il sedimento lacustre, quindi sotto il, semplificando il fango presente sul fondo del lago, c'era una valle, una valle fluviale, con una cuvetta molto pronunciata, molto a V, profonda, circa 700 metri al di sotto della superficie del sedimento. Quindi il vecchio lago era molto più profondo, probabilmente scorreva un fiume, ed è stato successivamente riempito dai detriti del ghiacciaio che ne ha rimodellato tutta la superficie di fondo e ci ha lasciato quello che ad oggi vediamo. Ci sono poi i laghi di pianura, come possono essere, ad esempio, nella foto, i laghi di Mantova, per farvi un esempio. I laghi di Mantova sono creati da un fiume che attraverso la sua evoluzione ha formato anse che poi si sono chiuse e, ad esempio, chiuse a causa di alluvioni e hanno portato alla formazione di questi laghi. Tornando ai laghi glaciali, mi sono dimenticato di citare tra i laghi glaciali e i laghi morenici i laghi presenti in Piemonte, come possono essere il lago di Candia, il lago di Viverone, laghi che di fatto si trovano appena al di sotto della catena alpina e che quindi si sono formati con il deposito del materiale morenico spinto dai ghiacciai durante la loro espansione. Un'ultima categoria di laghi è quella dei laghi costieri. Nel nostro territorio ovviamente non ce ne sono, però questi laghi si formano per deposizione del materiale sospeso nelle acque marine parallelamente alla costa. Un aspetto fondamentale quando si parla di laghi è quello relativo alla temperatura dell'acqua e al regime termico dell'acqua. Perché è importante? Perché l'acqua presenta una caratteristica fondamentale. La densità e il peso quindi dell'acqua è massima quando raggiunge la temperatura di 4 gradi. non è secondario questo aspetto perché è proprio in relazione a questa sua caratteristica che la circolazione delle acque nei laghi ha un meccanismo direi tipico in relazione alla stagione dell'anno. Ovvero, partendo dalla stagione primaverile, quindi alla fine dell'inverno, tendenzialmente in un lago tipo la temperatura dell'acqua è omogenea, tutta a 4 gradi. E' quindi possibile, proprio perché ha la stessa densità, che il vento che scorre, esercita la sua forza sulla superficie dell'acqua, determini la circolazione della massa d'acqua. Questo è molto importante perché tutto ciò che è presente negli strati più profondi viene riportato in superficie e, allo stesso modo, gli strati d'acqua più superficiali, che generalmente sono ricchi di ossigeno, possono scendere in profondità e quindi arricchire di ossigeno, ossigenare gli strati più profondi. Questa fase è una fase molto breve perché non appena il meteo diventa più caldo, quindi inizia a fare più caldo, il lago inizia a stratificarsi, ossia la superficie lacustre inizia a scaldarsi, l'acqua calda è più leggera e quindi si formano dei veri e propri strati. Uno strato superficiale più caldo, uno strato intermedio in cui c'è una brusca variazione di densità dell'acqua e quindi di temperatura e uno strato profondo che questi tre strati prendono il nome di epilimnio, metalimnio e ipolimnio. Lo strato superficiale epilimnio e lo strato profondo, ipolimnio, durante il periodo di stratificazione non si mescolano mai e quindi all'interno di questi due strati d'acqua si verificano meccanismi di degradazione della materia organica sospesa piuttosto che di deossigenazione delle acque completamente diversi. Nell'ipolimnio generalmente si ha il consumo dell'ossigeno proprio perché a un certo punto la materia organica viene degradata, viene ossidata, viene succhiato ossigeno all'acqua e pian piano lo strato profondo si impoverisce. Lo strato superficiale invece al contrario è quello a contatto con l'atmosfera e quindi normalmente non manca mai l'ossigeno. Questa fase di stratificazione permane fino a quando? Permane fino alla fine dell'estate, anzi molto spesso fino alla fine dell'autunno, quando il clima si fa più freddo, quando la temperatura dell'acqua inizia quindi a raffreddarsi, fino al punto in cui la temperatura dell'acqua superficiale torna simile o del tutto uguale a quella profonda. In questo momento si ha una seconda circolazione completa, soprattutto se questo periodo di densità e di temperatura delle acque simile a questo periodo corrisponde anche una circolazione atmosferica pronunciata, quindi importanti eventi. E poi c'è l'ultimo periodo che è il periodo invernale in cui molto spesso la temperatura superficiale diventa ancora più fredda di 4 gradi e quindi si ha la formazione in alcuni casi di ghiaccio. Il ghiaccio è più leggero e quindi rimane in superficie. Vi ho messo un nota bene. La circolazione delle acque è un aspetto fondamentale per la vita nei laghi perché contribuisce all'ossigenazione delle acque profonde e al ricircolo dei nutrienti algali e vedremo dopo che cosa sono, ossia a quelle sostanze importanti per lo sviluppo della vita nei laghi che tendono a concentrarsi negli strati più profondi. Proprio sulla base del regime termico dei laghi e della circolazione delle acque è possibile un'ulteriore classificazione dei laghi. Ad esempio ci sono i laghi di tipo polare in cui la superficie è costantemente gelata e generalmente anche quando mantengono una temperatura inferiore ai 4 gradi e praticamente non esiste mai circolazione. Ci sono poi i laghi subpolari in cui la superficie libera dai ghiacci è solo per un breve periodo quello estivo e questi laghi generalmente hanno una unica piena circolazione e quindi si chiamano laghi di tipo monomittico ad esempio i laghi alpini d'alta quota. Ci sono poi i laghi di tipo temperato quindi con una temperatura superficiale inferiore a 4 gradi in inverno e superiore a 4 gradi in estate. Questi laghi sono definiti dimittici ed è l'esempio che vi ho citato prima nella spiegazione relativa al regime termico dei laghi. Ci sono poi dei laghi di tipo subtropicale. Tornando ai laghi dimittici un lago dimittico può essere ad esempio nel territorio piemontese il lago di Candia un lago poco profondo che tende a rimescolare due volte all'anno. Ci sono poi vi dicevo i laghi di tipo subtropicale questa categoria include più o meno direi tutti i laghi della regione mediterranea nei quali la temperatura è sempre superiore anche negli strati profondi a 4 gradi centigradi. Ad esempio appartengono a questa categoria i grandi laghi profondi e proprio per queste caratteristiche la circolazione avviene una volta sola all'anno. In alcuni casi la circolazione non avviene tutti gli anni. Avviene soprattutto lungo tutta la colonna ogni 5-10 anni con una cadenza che non è diciamo che non è standard. A questa categoria quella dei laghi oligomittici quindi che si mescolano poco e appartengono direi oramai quasi tutti i laghi subalpini quelli grandi lago di Como lago di Garda lago maggiore eccetera. Una particolare tipologia di laghi è quella dei laghi meromittici i laghi meromittici sono una categoria degli laghi in cui l'acqua di fondo non si mescola mai con l'acqua degli strati superficiali ovvero durante tutto l'anno esiste una sorta di strato impermeabile al rimescolamento delle acque nella parte più profonda. Questo succede in laghi dove per accumulo di soluti l'acqua di fondo acquista una densità superiore a quella imputabile alla sua temperatura e quindi rimane sul fondo e siccome è più densa diventa difficilissimo esercitare un lavoro generalmente quello del vento per mescolarla con quella superficiale e un effetto di questo meccanismo quello della meromissi è che lo strato profondo tende progressivamente inesorabilmente a perdere tutto l'ossigeno presente al suo interno diventa quindi uno strato anossico vi dicevo che un lago è un ecosistema complesso ecosistema complesso in cui numerose categorie di organismi di elementi biologici e abiotici interagiscono tra di loro non è semplice descrivere la rete di relazioni che intercorrono in un lago si può semplificare e ve l'ho fatto in quella in quella figura che vedete dove di fatto ci sono alcuni elementi essenziali i due elementi alla base del funzionamento dell'ecosistema lacustre sono da un lato il sole l'energia luminosa e dall'altra i composti chimici che in qualche modo concorrono alla formazione e al sostentamento delle forme di vita base all'interno dei laghi questi composti sono il carbonio l'azoto e il fosforo vengono utilizzati dai cosiddetti produttori primari che vedete nel diciamo raffigurati con il numero uno generalmente questi consumatori privari sono le alghe la componente vegetale poi ne vedremo una breve descrizione che utilizzano il sole e quindi l'energia luminosa e i nutrienti per all'interno del processo fotosintetico per creare produrre materia organica ci sono poi i consumatori primari ovvero gli organismi erbivori generalmente microscopici che di fatto si cibano dai produttori primari e danno luogo a quella che è la catena alimentare dei laghi ci sono quindi poi i consumatori secondari ovvero quegli organismi che predano gli erbivori consumatori terziari che sono generalmente i pesci quindi consumano i consumatori dei o meglio consumano i predatori di erbivori ci sono poi i detritivori ovvero quegli organismi che si cibano dei resti di tutti gli altri organismi e poi infine direi ci sono gli organismi decompositori che sono i batteri i batteri hanno in qualche modo due ruoli il primo è quello di essere essi stessi cibo per il plankton più piccolo quindi per plankton si considerano tutti quegli organismi microscopici sia vegetali ma soprattutto animali che si muovono nell'acqua presenti nelle acque e poi i batteri sono responsabili anche della cosiddetta mineralizzazione dei composti di carbonio azoto e fosforo ovvero quel meccanismo che permette di rendere nuovamente disponibili nelle acque gli elementi essenziali per la vita vedete rappresentata in questa figura la catena alimentare molto semplificata che però ci fa capire come in qualche modo funziona un lago c'è il sole che è la fonte primaria di energia ci sono i composti chimici in basso lo vedete qui vengono utilizzati dai produttori primari che sono di due tipi il planton vegetale microscopico e le piante verdi ci sono poi consumatori primari carnivori e carnivori di secondo livello pesci eccetera dal punto di vista quantitativo è interessante vedere che di fatto l'elemento più importante è quello dal punto di vista proprio della quantità è quello più piccolo microscopico il 59% della biomassa in un lago è costituito da quella frazione che è inferiore a 0,2 micrometri quindi davvero piccola per salire successivamente scendere scusate al 39% per quella frazione tra 0,2 e 100 micrometri e poi vedete che le frazioni relativamente più grandi da 100 micrometri a 1 centimetro e da superiore a 1 centimetro costituiscono al massimo il 2% di tutta la biomassa presente in un lago capite dunque l'importanza della frazione microscopica per il funzionamento di un lago che molto spesso viene dimenticata e andiamo a vedere quello che c'è realmente in un lago in un lago innanzitutto ci sono gli elementi chimici disciolti c'è l'acqua ci sono una serie di composti come il calcio il magnesio il sodio il potassio i carbonati cloro nitrati ma direi i più importanti ci sono il fosforo il silicio e l'azoto che sono la base sono i fertilizzanti che consentono lo sviluppo delle alghe e delle piante che sono la base della catena alimentare nei laghi ci sono poi i gas disciolti sono quelli che consentono la respirazione e la vita degli organismi ad esempio dei pesci l'ossigeno l'azoto e la nedride carbonica vi parlavo di componente vegetale i vegetali nei laghi sono essenzialmente di due tipi e sono le alghe microscopiche chiamate fitoplancton e le piante acquatiche le piante acquatiche tecnicamente si chiamano macrofite una curiosità il termine plankton è un termine particolare che in greco vuol dire vagabondo cioè tutto quello che è un organismo planktonico è incapace di muoversi per moto proprio ma viene trasportato dalle correnti dai movimenti delle masse d'acqua capite anche perché è importante quindi la circolazione nei laghi perché consente spesso ad alcuni organismi di venire catapultati verso la superficie ed è un meccanismo direi fondamentale nei laghi o ancor più ad esempio negli oceani le cosiddette zone di upwelling sono le zone fondamentali attraverso cui nutrienti ma anche organismi vengono portati in superficie e vengono resi disponibili ad essere consumati da parte di organismi di un grado superiore che cosa fanno i vegetali beh i vegetali utilizzano vi dicevo la luce del sole di radia carbonica per produrre materia organica e vedete che quando si sviluppano si sviluppano in modo molto ben evidente singolarmente ad esempio il plankton è microscopico 100 100 micrometri 200 micrometri vedrete da queste da queste fotografie il plankton vegetale assume forme davvero varie diverse ma a volte e soprattutto nei laghi in cui la concentrazione di nutrienti è molto molto significativa da poche cellule si hanno invece fenomeni come quello nella foto in basso a sinistra le cosiddette fioriture ovvero lo sviluppo è talmente abnorme che l'acqua prende nettamente un colore verde e sembra quasi mucillaginosa per quanto riguarda invece le piante acquatiche le macrofitte occorre dire innanzitutto che molto spesso ci si sbaglia normalmente quelle che si chiama che diciamo tecnicamente si chiama macrofitta viene chiamata volgarmente alga quante volte camminando lungo un lago sentiamo dire guarda quante alghe ci sono nei porti ecco quelle non sono alghe quelle sono piante perché hanno radici ben ancorate al sedimento fusto e foglie quindi sono proprio piante acquatiche le piante acquatiche possono essere sommerse o possono essere parzialmente emerse quindi affondare completamente nell'acqua e nel sedimento oppure in parte avere il corpo lo stelo il fusto nell'acqua e poi le foglie o i fiori in superficie anche qui in alcune situazioni possono assumere uno sviluppo possono avere uno sviluppo significativo normalmente quando si vedono o tante alghe o tante piante nell'acqua vuol dire che un lago è molto ricco di nutrienti in alcuni casi è un buon segno molto spesso è un segno di allarme e poi vedremo perché passiamo alla componente animale lo zooplankton il plankton è un animale anche qui in un lago ce ne sono direi centinaia di forme e dimensioni tra i 50 micron e i 2-3 millimetri possono essere organismi erbivori come ad esempio al centro andiamo se riesco ecco al centro questa si chiama Daphnia è tipicamente erbivora filtra l'acqua e trattiene le particelle trattiene le cellule di fitoplancton oppure ci sono organismi carnivori questo è un ciclopide questa è uno zooplanktonte predatore si chiama Leptodora anche questi si sviluppano hanno cicli annuali oppure più brevi e la loro importanza è fondamentale perché sono l'anello di congiunzione tra la componente vegetale e la componente animale più grande cioè quella dei pesci veniamo alla un'altra importante componente animale che è quella del bentos il bentos è costituito diciamo è una grande categoria che è formata da tutti gli organismi che si trovano normalmente almeno in uno stadio della loro vita a contatto con il sedimento lacustre possono essere microscopici alcuni protozoi questo sulla destra che sembra un mostriciattolo è un tardigrado altri invece sono più grandi cosiddetti macroinvertebrati alcuni molluschi alcune alcuni diciamo vermi possono vivere tutta la vita all'interno il sedimento oppure possono utilizzare il sedimento come direi supporto per lo sviluppo di alcuni stadi vitali ci sono poi una serie di organismi che non vivono a diretto contatto con il sedimento ma vivono a diretto contatto con le piante acquatiche e in qualche modo sfruttano altri organismi che si sviluppano all'interno delle piante acquatiche stesse e infine veniamo ai pesci i pesci diciamo all'interno dell'ecosistema lacustre sono l'elemento biologico più visibile e probabilmente anche più conosciuto ne esistono di moltissime specie in Italia ci sono circa 60 specie di pesci i pesci possono essere erbivori quindi con una dieta tipicamente dedicata al consumo di materia vegetale possono essere carnivori dove per carnivoro non si intende soltanto un pesce ittiofago che mangia altri pesci ma carnivoro è anche un pesce che si nutre di zooplantone ad esempio possono essere univori quindi con una dieta molto molto ampia oppure tipicamente predatori che si nutrono solo ed esclusivamente di altri pesci il popolamento ittico dei laghi è direi come dire catalogabile a seconda della tipologia di lago ovvero si può parlare di un popolamento ittico tipico dei grandi laghi un popolamento ittico tipico dei piccoli dei piccoli laghi e un popolamento ittico tipico caratteristico dei laghi di alta quota per quanto riguarda i grandi laghi è utile sapere che normalmente il popolamento ittico si divide in due grandi categorie ovvero la categoria dei pesci pelagici che abitano il pelago ossia quella porzione di lago che è caratterizzata dalle acque aperte quindi quello che normalmente chiamiamo centro lago c'è poi invece una frazione importante di pesci che occupano quasi ed esclusivamente la zona litorale quindi la zona di riva vedete dalle foto sotto che cambia notevolmente la livrea di specie tipicamente pelagiche rispetto a quelle litorali a sinistra vedete ad esempio la trota il corregone lavarello o lagone queste sono tre specie pelagiche argente e argentate o che tendono comunque ad avere colori blu argento e nero perché sono colori che consentono di mimetizzarsi meglio all'interno dell'ambiente di acqua aperte le specie litorali invece hanno una colorazione più tendente al marrone al verde proprio perché vivono a contatto con un ambiente dai colori più più vari e quindi devono mimetizzarsi il popolamento ittico dei piccoli laghi è in qualche modo simile direi o totalmente sovrapponibile al popolamento ittico litorale dei grandi laghi quindi la differenza tra popolamento ittico dei grandi e dei piccoli laghi è che nei piccoli laghi generalmente non essendoci un ambiente pelagico non esiste la fauna ittica tipicamente pelagica quando parliamo invece di popolamento ittico dei laghi alpini laghi d'alta quota qui il numero di specie è nettamente ridotto proprio perché l'ambiente è particolarmente ostile generalmente troviamo solo due specie che sono la trota e la sanguinerola sono due specie tipicamente poco tolleranti quindi vogliono una buona qualità delle acque acque ossigenate e sono le uniche due specie che generalmente si sono adattate a questi tipi di ambienti ecco quando parliamo di laghi direi che un cenno molto importante soprattutto anche per chi gestisce i laghi e chi gestisce il territorio va fatto per parlare di inquinamento con il termine inquinamento si intendono tutta una serie di fenomeni di degrado della qualità delle acque che in qualche modo modificano una condizione naturale diciamo che un lago come avviene anche per gli esseri umani può andare incontro a malattie può ammalarsi può degradarsi e per questo è necessario conoscere il suo funzionamento ed è qui che ci viene in aiuto l'immunologia proprio perché conoscendo il funzionamento di un lago è possibile studiando le cause della sua diciamo della sua evoluzione e della sua malattia è possibile provare a risanarlo dove possibile generalmente l'inquinamento dei laghi è dovuto a due due processi cioè uno l'introduzione diretta di sostanze contaminanti possono essere di origine industriale possono essere effluenti derivanti ad esempio da depurazione delle acque addirittura acque non depurate oppure una gestione errata del bacino lacustre o del suo bacino imbrifero cioè di tutta quella porzione di territorio che per la sua conformazione versa le acque i reflui torrenti eccetera le acque meteoriche all'interno all'interno del lago quindi ad esempio una gestione errata del lago è la regolazione dei livelli del lago che se non gestita correttamente può portare a delle importanti modificazioni all'interno delle catene alimentari e quindi al funzionamento del lago stesso e alla sua qualità delle acque o ad esempio l'apporto di solidi sospesi quindi possono essere lavori in alveo piuttosto che altri altri meccanismi di apporto di solidi sospesi all'interno dell'ecosistema lacustre oppure a volte capita il prelievo delle acque un prelievo eccessivo delle acque da un bacino lacustre ne provoca una fluttuazione di livello e non solo può portare anche a degli scompensi nei meccanismi di circolazione delle acque e di stratificazione senz'altro quando parliamo di inquinamento lacustre non possiamo citare non possiamo non citare l'eutrofizzazione con la parola eutrofizzazione che deriva dal greco e vuole dire sostanzialmente buon buon nutrimento si indica il processo per cui un lago viene arricchito più o meno artificialmente di nutrienti algali cioè di quelle sostanze che consentono o meglio che diciamo sono alla base che vengono utilizzate dalle alghe dalle alghe microscopiche per la crescita della loro biomassa generalmente generalmente nei nostri laghi l'eutrofizzazione è causata da un eccessivo apporto di fosforo dal bacino imbrifero apporto di fosforo che viene generato da liquami domestici liquami di agricoltura attività zootecniche ad esempio alcune attività industriali e in qualche modo in alcuni casi anche il dilavamento di rocce e suoli il fosforo è il concime che determina molto spesso la crescita abnorme e la proliferazione abnorme delle cellule algali del fitoplancton con quelle conseguenze che abbiamo visto prima nella fotografia ovvero fioriture molto molto importanti tanto da far diventare il lago verde il rimedio all'eutrofizzazione è uno solo bisogna ridurre l'apporto di fosforo sino ai livelli più possibili prossimi a quelli naturali non ci sono altri rimedi quindi non esistono magie purtroppo è una questione di bilancio di massa se ne entra tanto per risolvere il problema bisogna impedire che questo composto entri nel lago l'eutrofizzazione si quantifica utilizzando un parametro standard che è quello dei microgrammi di fosforo per litro e un lago può essere classificato cioè a seconda della concentrazione di fosforo presente nelle sue acque è possibile chiamarlo con un determinato nome si parla di laghi oligotrofi quando il contenuto di fosforo è minore ai 10 microgrammi litro laghi mesotrofi quando il contenuto di fosforo varia diciamo è nell'intervallo 10 20 25 microgrammi litro e quando è superiore ai 20 25 si parla di laghi eutrofi o sopra 100 microgrammi litro di laghi ipertrofici e cosa comporta l'eutrofizzazione vi dicevo che l'eutrofizzazione nasce da un apporto di nutrienti eccessivo si sviluppano le alghe molto spesso in quantità generalmente abnorme a un certo punto però queste alghe muoiono si depositano sul fondo e da lì iniziano ad essere degradate degradandosi consumano il ossigeno e quindi l'ossigeno viene portato via dalle acque questo è un elemento come dire negativo perché se ritorniamo al discorso della circolazione lo strato profondo sarà privo di ossigeno e durante il periodo di circolazione lo strato profondo verrà portato in superficie mischiandosi con uno strato superficiale ricco di ossigeno ma tutto ciò sarà estremamente negativo nei laghi molto eutrofi perché il contenuto di ossigeno comunque raggiunto dalla colonna d'acqua tutta la colonna d'acqua sarà molto basso capita in alcuni casi ed è capitato che a seguito della circolazione si verifichino numerose morie di pesci anche negli strati superficiali l'effetto della eutrofizzazione a lungo andare è quello di modificare sensibilmente la composizione e anche diciamo la si diciamo la composizione delle comunità biologiche presenti in un lago si andranno a selezionare specie resistenti a questo tipo di fenomeno di inquinamento ma la resistenza non è un elemento positivo nel senso che molto spesso le specie il numero di specie diminuisce quindi si sviluppano pochissime specie resistenti e in alcuni casi sono quelle più dannose ad esempio soprattutto negli ultimi anni nei laghi che vanno incontro all'eutrofizzazione si sviluppano i cianobatteri che cosa sono i cianobatteri sono alghe alghe microscopiche plantoniche che in qualche modo si trovano a loro agio in ambienti eutrofi spesso anche caldi in relazione al cambiamento climatico e sviluppano tossine tossine che possono essere nocive per l'uomo quindi nocive per l'uomo e anche ad esempio per i pesci in alcuni casi in ambienti eutrofi alcune specie di pesci non sono più come dire non si trovano più a loro agio ad esempio i salmonidi che sono specie come la trota o anche gli stessi coregoni a un certo punto proprio perché sono esigenti dal punto di vista dell'ossigenazione delle acque non trovano più un ambiente adatto alla loro sopravvivenza l'eutrofizzazione è tutt'oggi uno dei problemi più importanti non solo per i laghi in Italia ma anche in tutta Europa se andiamo a vedere lo stato diciamo trofico dei laghi italiani vediamo che al di sotto dei millimetri di quota circa il 30-32% dei laghi sono eutrofi il 51% sono mesotrofi e solo il 17% sono oligotrofi la situazione cambia leggermente in meglio al di sopra dei millimetri di quota ecco in questo slide vi volevo fare vedere in qualche modo una serie storica relativa proprio al fosforo che è l'elemento eutrofizzante principale nei grandi laghi dell'Italia settentrionale in particolare il Comulisi del Garda il Maggiore e il Lugano come vedete la situazione è in qualche modo diversa tra i vari laghi generalmente si ha una picchi di eutrofizzazione tra gli anni 70 e gli anni 80 direi con un miglioramento per tutti i grandi laghi direi ad eccezione del Lago di Garda che ha mostrato un trend leggermente diverso rispetto agli altri perché il picco si è avuto negli anni 70 primi anni 80 perché fino allora la depurazione delle acque e quindi il collettamento delle fognature non era una priorità e quindi tutte o parte almeno delle fognature venivano liberamente scaricate nei laghi come se fossero dei pozzi perdenti e non si conosceva ancora o comunque sia non si era tastato in modo concreto il problema dell'eutrofizzazione con l'adozione della collettazione il collettamento degli impianti generalmente nei grandi laghi si è visto una situazione una situazione andata in miglioramento in questa diapositiva vi volevo mostrare una la relazione che esiste tra il contenuto di fosforo nelle acque gli istogrammi gialli con la produzione algale rappresentata dalla clorofilla la linea verde con i puntini con i puntini blu che è il principale pigmento algale vedete come alla diminuzione di fosforo presente nelle acque corrisponda una diminuzione direi molto veloce del contenuto di clorofilla nelle acque stesse e quindi della biomassa algale la stessa cosa si può dire per la fauna ittica per i pesci se questo effetto dell'eutrofizzazione si manifesta lungo tutta la catena trofica lungo tutte le catene alimentari ad un aumento della biomassa della componente vegetale seguirà a cascata un aumento della biomassa di tutte le altre componenti inclusa quella dei pesci e al contrario ad una diminuzione dei nutrienti algali presenti nelle acque corrisponderà a una diminuzione della biomassa di tutte le componenti e anche quindi a quella dei pesci vedete qui l'andamento del pescato che riflette un po' l'andamento della biomassa delle comunità ittiche nel lago maggiore vedete che tra gli anni 70 e gli anni direi la fine degli anni 80 il pescato era molto più elevato rispetto a quello degli ultimi 15 anni in cui lo stato trofico del lago maggiore è andato incontro ad una forte diminuzione proprio per il diciamo dovuta al collettamento delle funiature degli scarichi urbani e quindi ad una diminuzione del fosforo nell'acqua un altro elemento interessante quando si parla di inquinamento è quello legato a tutta quella categoria di inquinamento che si può definire inquinamento industriale una serie di composti di origine industriale che vengono o che sono stati in passato versati o scaricati o comunque prodotti all'interno del bacino idrografico di un lago vi porto l'esempio del problema del DDT nel lago maggiore un problema credo conosciuto da molti analizzato studiato a partire direi almeno della metà degli anni 90 quando si è presentato ed è relativo a che cosa è relativo alla alla produzione di questa molecola una molecola organica il DDT in un sito industriale collocato nella valle del fiumetoce ve la indico qui col mouse fiumetoce che è uno dei principali affluenti del lago maggiore cosa era successo? successo che a un certo punto per problemi legati all'impianto problemi di stoccaggio eccetera la parte del DDT prodotto era finito nei sedimenti sedimenti del fiume a seguito di piene e di fenomeni piovosi di fatto è stato scaricato e finito nel lago maggiore lago maggiore ha dato luogo ad una serie di problemi soprattutto legati al mondo della pesca perché questa molecola è una molecola che tende ad accumularsi negli organismi viventi perché è una molecola lipofila quindi si accumula nei grassi e accumulandosi nei grassi di fatto è andato ad accumularsi nella fauna ittica nei pesci quindi ha raggiunto livelli negli anni 90 che erano oltre i limiti di legge la pesca è stata chiusa e questo è stato un problema molto serio e lo è tuttora nel senso che per alcune specie soprattutto per lagone la pesca è ancora chiusa perché i livelli di DDT nella carne dei pesci sono ancora un pochino più alti dei limiti di fatto l'impianto è stato chiuso si è provveduto e si sta provvedendo alla bonifica ma un problema che sembrava limitato al solo sito industriale si è in qualche modo trasmesso a tutto l'ecosistema del lago maggiore e a tutto il suo bacino tenete conto che il DDT è una molecola anche volatile per cui si volatilizza quando fa caldo dall'acqua o dai sedimenti passa nell'aria qui sale in atmosfera passando attraverso le nuvole si va a condensare nelle montagne generalmente nella neve e quindi in seguito al riscaldamento climatico o generalmente allo scioglimento delle nevi riprecipita negli affluenti e quindi passa di bacino in bacino quindi lo stesso DDT prodotto ad esempio nella valle del Toce pare sia causa di inquinamento anche in altri ambienti lacustri al di fuori del lago maggiore ad esempio il lago di Como o il lago di Iseo e quindi un problema che molto spesso si pensa limitato ma l'inquinamento industriale soprattutto con alcune classi di molecole è una realtà che va presa in va presa con attenzione perché i suoi effetti possono essere non solo locali ma direi possono essere estesi a tutto il territorio regionale o addirittura nazionale con effetti anche a lungo termine vedete qui quello che è successo nel lago maggiore vi porto una serie di dati di circa 12 anni vedete come le concentrazioni di questa di questa molecola le classi di molecole nei pesci sono andate diminuendo per alcune specie come lagone sono ancora relativamente relativamente alte per altre invece si sono sono arrivate ancora qui forse i dati sono un pochino vecchi i recenti sono senz'altro meglio comunque sia per alcune specie la pesca è ancora chiusa per lagone in particolare per altre come il coregone il lavarello che è ben conosciuto dal punto di vista commerciale perché è quella è una delle specie più vendute più commercializzate più utilizzate nei ristoranti di fatto per questa specie la pesca è stata aperta un ultimo problema per i laghi il problema del cambiamento climatico è un problema relativamente nuovo se ne sente parlare ormai in televisione è un problema diciamo salito all'attenzione del grande pubblico negli ultimi cinque anni probabilmente non di più conosciuto nel mondo scientifico da diciamo una o due decadi è affrontato dal punto di vista scientifico da una o due decadi però per quanto riguarda i laghi è solo negli ultimi direi dieci anni che si è posta l'attenzione su questa problematica il cambiamento climatico è come dire una sovracategoria di fenomeno che interessa poi diversi aspetti il primo interessante aspetto è quello dell'incremento delle temperature aumenta la temperatura media dell'aria aumenta la temperatura dell'acqua temperatura dell'acqua acqua più calda vuol dire più difficile da rimescolare maggiore persistenza della stratificazione estiva quindi vuol dire maggior probabilità che nello strato più profondo venga a mancare l'ossigeno ci sono una serie poi di fenomeni ulteriori come quello delle precipitazioni breve intense le bombe d'acqua tanto di moda adesso sono una delle come dire degli effetti del cambiamento climatico e poi d'altro canto c'è il fenomeno dei periodi siccitosi altrettanto significativo tutti questi fenomeni hanno delle ripercussioni anche sui laghi perché modificano ad esempio gli apporti idrici attraverso i tributari attraverso i fenomeni di 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 leaching dal dal bacino al lago stesso vi dicevo che effetto del cambiamento climatico è il cambiamento della temperatura dell'acqua dei laghi temperatura dell'acqua dei laghi che si può vedere anche sotto una forma diversa cioè come quantità di calore intrappolata nelle acque profonde le acque profonde di un lago hanno una sorta di memoria climatica cioè accumulano calore e l'analisi della variazione di questo calore all'interno della massa d'acqua ci dà una precisa risposta rispetto al tema del cambiamento climatico in questa slide vi faccio vedere le variazioni del contenuto di calore in alcuni laghi italiani come il lago maggiore il lago di garda o il lago d'orta in tutti i laghi subalpini quelli grandi nelle acque profonde negli ultimi direi 30-40 anni si nota un aumento del contenuto di calore quindi questo fenomeno del cambiamento climatico meno evidente negli strati più superficiali e molto più evidente negli strati profondi vi dicevo che accumulo di calore negli strati profondi determina una maggior resistenza al rimescolamento infatti nei grandi laghi profondi il rimescolamento che una volta avveniva una volta vuol dire fino al 1960 avveniva ogni due tre anni quindi dalla superficie fino al fondo quindi lungo tutti i 250 370 fino ai 410 metri del lago di Como ad oggi avviene raramente l'ultima volta che c'è stato un mescolamento completo della colonna d'acqua nei grandi laghi è stato nei primi anni 2000 quindi circa vent'anni fa più o meno 15 anni fa che effetto hanno i cambiamenti climatici sulla vita nei laghi beh l'effetto più conosciuto ormai è quello di una sorta di eutrofizzazione bis ovvero il riscaldamento climatico rafforza il meccanismo dell'eutrofizzazione attraverso tutta una serie di meccanismi primo tra i quali è quello della maggior stabilità della colonna d'acqua maggior stabilità vuol dire minor rimescolamento vuol dire favorire lo sviluppo di un certo tipo di organismi ad esempio i cianobatteri che producono tossine rispetto ad altri acqua più calda vuol dire i metabolismi più veloci vuol dire crescita abnorme del fitoplancton e di conseguenza tutta una serie di processi tipici del fenomeno dell'eutrofizzazione c'è un altro aspetto ultimamente considerato ed è quello del fatto che il cambiamento climatico in particolare acque più calde o periodi stagionali in cui le acque sono più calde come ad esempio la primavera favorisce l'affermarsi di alcune specie anche di pesce ad esempio rispetto ad altre si è visto negli ultimi 30 anni 40 anni che nei grandi laghi ad esempio c'è stato un aumento di alcune specie più tipicamente si definiscono euriterme oppure di acque calde rispetto al passato eppure anche in passato erano presenti queste specie quindi l'aumento della temperatura delle acque ha determinato un rafforzamento del loro ciclo biologico dinamiche di popolazione più pronunciate maggior produzione di uova di avanotti e quindi uno sviluppo della loro popolazione il cambiamento climatico ha un effetto direi più immediato più evidente sui piccoli laghi in cui le dinamiche sono più veloci e sono meno smorzate dalle grandi masse d'acqua sui grandi laghi l'effetto del cambiamento climatico è più lento è direi più subdolo nel senso che non è sempre facile ricondurre i fenomeni che si vedono si misurano si analizzano direttamente al cambiamento climatico quindi occorre conoscere di più occorre studiare di più occorre raccogliere più informazioni e più dati non è un caso che negli ultimi direi dieci anni ha preso piede sempre di più una raccolta di informazioni direi più puntuale più precisa caratterizzata dall'utilizzo di una strumentazione anche in situ le cosiddette boe di telerilevamento di rilevazione dei dati dell'acqua molto più precise con dati molto più come posso dire frequenti nel tempo perché solo un'attenzione più diciamo dettagliata sull'evoluzione della qualità delle acque può fornirci poi gli strumenti di conoscenza e quindi di come dire permetterci di mettere in atto quelle forme di contrasto agli effetti del cambiamento climatico cosa che non sarebbe possibile prendendo i dati a piccole dose diciamo che quello che emerge dal mondo scientifico è che per contrastare il cambiamento climatico quindi questo effetto in qualche modo di turbo al fenomeno dell'eutrofizzazione occorre ridurre ancora di più gli apporti di nutrienti ai laghi quindi se prima si pensava che riducendo dell'80% il contributo di fosforo diciamo che proveniva dalle fognature ad esempio ora questo non basta più bisogna alzare ancora di più l'asticella altrimenti ogni sforzo diventa vano questo aspetto è un aspetto direi essenziale nella gestione dei bacini lacustri perché la maggior parte dei nostri laghi anche di media pianura soffrono il problema dell'eutrofizzazione penso al lago di Viverone penso al lago di Candia penso al lago di Varese in Lombardia sono tutti laghi con medesime caratteristiche in cui vanno fatti degli sforzi ancora superiori maggiori per cercare di ridurre il più possibile l'apporto di nutrienti derivanti da fognature agricoltura o altri utilizzi del suolo a questi bacini lacustri quindi io spero di non avervi annoiato troppo concludo dicendo che come forse avete capito cercato di farvi capire i laghi sono ecosistemi davvero complessi abbiamo toccato in questa presentazione solo alcuni punti e anche superficialmente un lago è come un corpo umano la medicina studia il corpo umano la limnologia studia un lago ma i meccanismi sono molto molto complessi i laghi sono inseriti in un territorio e risentono in maniera direi molto significativa dell'azione dell'uomo azione dell'uomo a livello locale a livello regionale a livello direi quasi direi globale per conoscere come risanare un lago occorre capirne il funzionamento studiarlo così come si studia un malato un lago per essere risanato va va seguito passo per passo come non esistono miracoli in medicina non esistono miracoli nell'ambito del risanamento dei laghi occorre quindi sempre di più dare spazio al monitoraggio di questi ambienti lacustri raccogliere informazioni per disegnare scenari di gestione e di risanamento con questo io vi ringrazio se ci sono domande direi che potete scrivermi vedete sotto gli indirizzi o visitare il sito del nostro istituto dove è possibile avere anche una serie di documentazione aggiuntiva rispetto alle tematiche che abbiamo trattato oggi dicere in Grazie a tutti